Sei andata a scuola, sei contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sei contare? Sì, so contare. E sei camminare? So camminare. E contare, camminare, insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te camminare. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque... È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura Altrimenti diventa un ostacolo e impedisce di andare avanti Paolo Borsellino, Palermo, 18 giugno 1992 Caro Paolo, ti ringraziamo per il coraggio che hai avuto, Per la forza che hai dimostrato Pur sapendo quale sarebbe stato il tuo destino Quando pensiamo alla mafia, proviamo rabbia, delusione, amarezza, disgusto Ma guardando la tua battaglia, noi, che non eravamo neppure nati quando tu sei stato ucciso Vogliamo invece farti una promessa Continueremo anche noi, nel nostro quotidiano, la tua lotta Cominceremo con vivere nella legalità E non ci faremo imprigionare dalla paura Proprio perché di tutta la criminalità organizzata si deve parlare E siamo qui proprio per questo Ci rispetteremo a vicenda E non cercheremo di prevaricare sugli altri Se riusciremo nel nostro impegno Altri si uniranno E qualcosa di buono nascerà 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi